Salve a tutti amici, buonasera, bentornati, bentrovati. Questo vuole essere un video con un consiglio di visione. Vi voglio consigliare di vedere il film che è andato in onda qualche sera fa in tv, Il verdetto, con Emma Thompson, ambientato completamente in Inghilterra, a Londra. Questo film, per chi non lo conoscesse, tratta la tematica del sangue nei testimoni di Geova. Personalmente ho trovato tantissimi spunti di riflessione da questo film. Ovviamente voglio evitare di fare spoiler per chi non lo avesse visto, quindi non vi dirò come finisce, ma vi dirò comunque in soldoni quella che è un pochino la trama. Emma Thompson, che è la protagonista, è una giudice, un giudice che deve decidere se imporre la trasfusione di sangue ad un ragazzo di 17 anni, testimone di Geova, figlio di testimone di Geova, cresciuto nei testimoni di Geova. È estremamente interessante questo film per tutta una serie di motivazioni. Innanzitutto ciò che mi è piaciuto è stata la schiettezza di questo film. Sono stati fatti nel corso del tempo diversi film sull'argomento testimone di Geova in generale, ma da questo film devo dire che di questo film ho apprezzato particolarmente la schiettezza anche a livello verbale, nel senso che sono stati usati termini reali. Non hanno girato intorno al concetto, hanno detto le cose per quelle che sono, hanno chiamato gli elementi della torre di guardia con il loro nome ed hanno messo in evidenza quello che veramente la torre di guardia è. Hanno messo in evidenza quella che è l'assurdità della norma sul sangue e vi devo dire che in tutto questo una cosa che mi ha colpito particolarmente e che ho molto apprezzato è stata la reazione del ragazzo una volta che ha subito la trasfusione, perché il ragazzo non voleva la trasfusione, la giudice ha deciso di fargliela fare, ma la sua reazione nel momento in cui si è ritrovato al di fuori della congregazione, isolato da tutti, in litigio con la famiglia, quindi con la madre e con il padre, è stata una reazione che mi ha fatto molto riflettere, mi ha fatto riflettere sul fatto che quando ci si trova in un contesto del genere e magari non si decide autonomamente di morire da finti eroi, perché parliamoci chiaro, chi decide di morire in questo modo, in questa organizzazione religiosa, in realtà muore da finto eroe, per loro è un eroe, ma finisce lì. Quando qualcun altro impone ciò che si deve fare, come nel caso di un'imposizione che arriva dalla legge per tutelare la salute del minore, come in questi casi, poi il minore in un modo o nell'altro si trova in una condizione veramente scomoda, perché improvvisamente, soprattutto se come si vede nel film è un ragazzo che è nato e cresciuto all'interno della famiglia testimone di Geova, quindi nato e cresciuto all'interno della torre di guardia, conosce solo quel mondo, non ne conosce altri, questo ragazzo si è trovato completamente da solo, totalmente isolato e a me questa reazione, perché dico che è piaciuta la reazione del ragazzo? Mi è piaciuta per il semplice motivo che sono stati molto bravi gli sceneggiatori a mettere in evidenza come dall'oggi al domani nella torre di guardia, se fai un passo falso o perché lo hai deciso tu o perché qualcuno te lo ha imposto se sei un minore come in questo caso, praticamente sparisci, socialmente non esisti più e allora io mi chiedo e vi chiedo, ma riflettete, riflettiamo, come si può e sapete quanti ce ne sono di ragazzi in queste condizioni? Come si può far vivere dei ragazzi in questa condizione? Come si può da un giorno all'altro non guardare più in faccia ad un ragazzino che potrebbe essere vostro figlio, vostro nipote? Come si può e come si può definire questi provvedimenti, provvedimenti amorevoli? Cioè dire la parola amore in bocca a questa gente qui, veramente, io mi chiedo dov'è la vergogna, io mi chiedo dov'è la vergogna, credetemi, questo film si intitola Il Verdetto, ribadisco, chi ovviamente lo avesse perso l'altra sera in tv, io l'ho visto per caso tra l'altro quindi non avevo programmato di guardarlo, l'ho trovato per caso facendo zapping, chi volesse guardarlo ho già verificato, lo trovate su youtube, ovviamente acquistandolo su youtube, essendo un film uscito nel 2017 in Inghilterra, quindi abbastanza recente, ma questo film mette in evidenza tantissime cose di questo mondo e dà tantissimi spunti di riflessione e guardate anche se la fine lascia con l'amaro in bocca senza dirvi come va a finire, lascia con l'amaro in bocca ma è una fine che fa riflettere ed è una fine che per quanto sia amara ci fa capire che comunque sia questo ragazzo ha assaggiato un pezzettino di libertà fuori dall'organizzazione, fuori da questo culto ad alto controllo mentale. Vedetelo se potete, fate le vostre riflessioni ed è un'occasione per riflettere su cosa veramente c'è in questa organizzazione, cose che molto spesso chi non conosce questa organizzazione neanche immagina lontanamente, ma è giusto che tutto venga alla luce nel momento giusto e quel momento giusto è arrivato già da un pochino di tempo. Detto questo io vi ringrazio per la visione, il verdetto film del 2017 con Emma Thompson. Buona serata